20 luglio 1982, Londra. 11 soldati vengono uccisi in due diversi attentati. La prima esplosione, a Hyde Park, uccide due membri dell'esercito, ferendone altri 23. Meno di due ore dopo, un secondo ordigno esplode in Regent's Park, provocando la morte di sette militari, tutti elementi della banda militare dei Royal Green Jackets e il ferimento di altri 24. I terroristi dell'Ira rivendicano gli attentati a seguito della dichiarazione di guerra di Margaret Thatcher all'Argentina per il possesso delle isole Falkland.